E adesso sarà fondamentale non perdere la testa, guai a farsi prendere dalla frenesia, mantenere i nervi saldi e il primo passo per uscire dal tunnel. Dopo un girone d'andata letteralmente dominato, la regina di Toscano fa i conti con la prima vera crisi della stagione, quella macchina perfetta, costruita per asfaltare ogni cosa, adesso arranca in salita. Ad aprire ufficialmente la crisi amaranto è la Virtus Franca Villa di Mr. Trocini che soffre per un tempo, il primo, e poi ribalta tutto, ribalta la regina, le sue certezze. Lo fa giocando un grande calcio, possesso palla, tanta aggressività e poi via, a verticalizzare, sfruttando le difficoltà di una regina che resta in partita per 45 minuti, poi sparisce. Eppure l'avvio di gara è confortante, la bendi Toscano ha voglia e si vede, alza i ritmi, mette subito alle corde una Virtus che fatica ad arginare un Denis devastante. Fa coppia con corazza l'argentino e non è certo l'unica novità rispetto a Bisceglie. In mezzo tocca a Nielsen mentre Bellomo è libero di agire alle spalle delle due punte che creano subito non pochi problemi alla difesa ospite e non è un caso che Denis la sblocchi subito dopo appena 10 minuti. Il suo gol è una perla. Sembra l'inizio di una goleada anche perché la regina appare finalmente brillante. Toscano serva soddisfatto ma la squadra ha il torto di non chiudere la partita quando ne avrebbe l'opportunità e così la Virtus prende fiducia e passata la burrasca inizia a mettere il naso fuori, complice anche un calo della regina. Calo che diventa ancora più evidente nella ripresa quando gli Amaranto restano di fatto negli spogliatoi. Il secondo tempo è un incubo per la regina che perde tutti i duelli, appare stanca e dopo il gol del pareggio firmato da Risolo la squadra si disunisce e va nel pallone. Inizia un'altra partita con gli ospiti assoluti protagonisti. Toscano prova a cambiare le cose affidandosi a Bianchi e Reginaldo, pagano Nielsen e Corazza ma la musica non cambia, è sempre la Virtus a fare la partita e la personalità dei ragazzi di Trocini viene premiata al minuto 74 quando Di Cosmo buca così la difesa Amaranto e costringe la regina a fare i conti con la paura. E neppure la spinta del granillo serve a cambiare l'inerzia di una gara che gli Amaranto provano a rimettere in piedi nel finale con gli ingressi di Paolucci e Mastur. Ma la squadra non ne ha più e quando il direttore di gara annulla questo gol di Reginaldo, pescato in posizione irregolare, capisci che la sconfitta è ormai inevitabile, è puntuale, arriva dopo sei minuti di recupero. Il granillo non è più una fortezza inespugnabile per la regina e il secondo KO nelle ultime tre giornate di campionato. Adesso sarà fondamentale analizzarne i motivi, magari senza distruggere il giocattolo. In fondo, sei punti di vantaggio non sono un dettaglio, il campionato è ancora nelle mani della regina, l'importante è non perdere la testa proprio adesso.